Grazie, ambasciatore. Grazie a tutti voi di essere qui. A voi come concordato in italiano, ma credo che questa differenziazione linguistica sia per noi una grande ricchezza. Vi prego di guardarvi intorno, voi siete probabilmente più abituati di me, ma siamo veramente tanti. Siamo veramente tanti, il che significa che un foro come questo di dialogo multilaterale con così tanti Stati rappresentati rappresenta un patrimonio unico, una ricchezza fondamentale per tutti i Paesi che rappresentiamo e per tutti noi nel suo insieme. Io credo che questo sia il grande valore dell'OSCE nato in un'altra epoca, in un altro secolo, se vogliamo datarne la seniority, ma tuttora valido e tuttora giovane, questo cercherò di sottolinearlo nel mio intervento questa mattina fra voi. E soprattutto vi invito a riflettere quanto sarebbe difficile, se non impossibile, oggi creare una conferenza come questa, creare un tavolo come questo, creare un foro come questo. Pensiamo alle divisioni di allora, quando si tenne la conferenza di Helsinki che dette inizio alla nostra organizzazione, e pensiamo alle divisioni di oggi, sono divisioni diverse, ma riflettiamo e chiediamoci quali fossero più profonde e chiediamoci se oggi saremmo noi capaci di creare ciò che fu creato a Helsinki. La nostra OSCE rappresenta un elemento estremamente importante per il dialogo multilaterale, è addirittura un unicum per un dialogo con così tanti paesi, in una forma così strutturata e con un obiettivo ben identificato, che è la sicurezza reciproca, sicurezza reciproca dei nostri stati, la sicurezza reciproca dei nostri popoli, la sicurezza che rappresenta per i cittadini, penso di ciascuno dei nostri paesi, il bene più importante, la priorità più importante e il dovere di chi assume responsabilità di governo dei popoli e di chi assume responsabilità di rappresentanza degli stati come voi, è quello di garantire la sicurezza, elemento che va mano nella mano con la pace, con la fiducia e con la possibilità di sviluppo e di prosperità. E' per questo che il grande valore aggiunto dell'OSCE, di questa organizzazione che ci unisce come a volte diciamo con arcobaleno geografico da Vancouver a Vladivostok, deve essere per noi, per gli stati che ne fanno parte e per gli stati che sono partner esterni, deve essere un punto di riferimento estremamente importante. Un foro per rapporti multilaterali, strutturati, organizzati e periodicamente scadenzati, rappresenta un'occasione unica per tutti noi, per garantire un presente migliore e soprattutto per guardare in maniera più positiva al futuro. Questo è lo spirito di Helsinki, ma questa è anche la via che abbiamo davanti, l'orizzonte che abbiamo davanti, per quella che chiamerei, e non voglio essere né banale né enfatico, la nuova Helsinki, la nuova OSCE, quella che possiamo costruire realmente insieme, quella su cui al di là delle presidenze protempore dobbiamo avere tutti un impegno assolutamente solido, assolutamente fermo. Quali sono gli elementi costitutivi? Il dialogo costruttivo, fra noi, a tutti i livelli, la costruzione di una sempre maggiore fiducia reciproca. Se non c'è dialogo non può esserci fiducia, ma un dialogo che non riesce a costruire la fiducia è un dialogo sterile, è un seme che non germoglia. E a valle della fiducia e attraverso il dialogo la cooperazione, e grazie alla cooperazione, come dicevamo, la maggiore sicurezza. Oggi la moderna sicurezza per tutti noi, per ciascuno di noi, passa attraverso anche un interscambio di informazioni. Questo forse è uno dei cambiamenti maggiori rispetto all'epoca in cui nacque la nostra organizzazione. All'epoca ciascuno cercava di avere più informazioni sull'altro, di tenere le proprie informazioni riservate. Oggi naturalmente esistono, come è normale per ciascun paese, informazioni riservate, ma lo scambio di informazioni è l'unico mezzo attraverso il quale noi possiamo pensare insieme, insieme, di affrontare e vincere le grandi sfide globali. Poiché le sfide sono grandi e poiché le sfide sono globali, è estremamente meno complesso agire insieme per riuscire ad ottenere un risultato. E allora vediamo alcuni punti focali della nostra possibile azione. Il primo, e lo dico certamente in quanto ministro del governo di un paese come l'Italia, ma lo dico anche come convinto membro della nostra organizzazione, dell'OSCE, il primo punto che vorrei sottoporre alla vostra attenzione è il Mediterraneo. Questo mare che unisce tre continenti, l'Asia, l'Africa e l'Europa, questo mare da cui sono partite, scusate la retorica, le tre navi che portarono a unire un altro continente, come il continente americano ed anche altri continenti più lontani. Ecco, il Mediterraneo oggi è diventato un'area estremamente delicata, estremamente sensibile, ci sono purtroppo conflitti, ci sono guerre oggi meno acute che nel recente passato, in aree vicinissime al Mediterraneo. Il Mediterraneo è attraversato quotidianamente dai flussi migratori, in provenienza in particolare dall'Africa, sempre più dall'Africa subsahariana, sono flussi epocali, sono flussi drammatici, sono flussi che spesso sono caratterizzati da tragedie, le tragedie che vediamo quando avvengono dei naufragi nel Mediterraneo, le tragedie che non vediamo quando si producono nel deserto, nella foresta, sono persone che si muovono cercando un futuro migliore, cercando rifugio da regimi liberticidi, cercando un rifugio dalle guerre. Ebbene, credo che sia una questione di responsabilità comune, anche per i Paesi che non si affacciano direttamente sul Mediterraneo, gestire quest'area estremamente delicata. Penso che sia una questione di vera responsabilità condivisa e la condivisione deve essere genuina, non deve essere venata di riserve di tipo puramente nazionale, ma deve essere una condivisione quanto più ampia possibile. Il Mediterraneo rappresenta una delle grandi sfide globali a cui vorrei fare riferimento. Il secondo grande cantiere per la nostra organizzazione è rappresentato dal dialogo e dalla assunzione di responsabilità al nostro interno. Dialogo quindi tra Paesi che fanno parte della nostra organizzazione o che ne sono partner. Il dialogo interno è fondamentale per superare delle situazioni ancora di divisione, di conflitto, di diversità, di vedute che rendono comunque la situazione estremamente penosa e difficile per le popolazioni che ne sono toccate. Penso qui alle situazioni complesse in Ucraina, penso all'importanza di dare sbocco positivo e seguito agli accordi di Minsk. La tutela dei diritti fondamentali dei popoli che sono toccati dalla situazione in Ucraina deve essere quello di poter vivere in pace con una prospettiva positiva verso il futuro. La nostra Presidenza, ma più in generale la nostra organizzazione nella sua continuità, può essere uno dei garanti e uno dei luoghi in cui noi portiamo avanti un dialogo positivamente costruttivo. Penso in particolare al processo politico in atto grazie al gruppo trilaterale di contatto. Da parte nostra il massimo supporto. Ci sono altre situazioni conflittuali che si protraggono delle situazioni difficili. Penso a quanto accade nel Caucaso, la situazione tra Armenia, Azerbaijan, Nagorno-Karabakh, la situazione in Georgia, per l'Abkazia, l'Ossetia. Ecco, dobbiamo cercare quanto più possibile di avvicinare attraverso il dialogo, la fiducia e la presunzione di responsabilità le posizioni. La nostra Presidenza saluta molto positivamente i contatti che si sono già instaurati a livello di ministri degli esteri tra Armenia e Azerbaijan. Noi pensiamo che questo debba continuare, che aspetti ai due Paesi trovare una soluzione, ma naturalmente come organizzazione dobbiamo dare il massimo sostegno e come Presidenza è quello che intendiamo fare. Va anche ricordato quanto accade nella Transnistria il processo di soluzione della situazione difficile legato anche al protocollo di Roma, cosiddetto che porta attraverso tutta una serie di punti che vanno dal riconoscimento di elementi correnti come le targhe delle automobili, l'apertura del transito sul ponte e sul grande fiume e tutti i elementi, le possibilità di telecomunicazione e di quant'altro che sono fondamentali e che possono portare ad un miglioramento della situazione. Come Presidenza esprimiamo l'apprezzamento che spero sia da voi tutti condiviso nei confronti del nostro rappresentante Franco Frattini che svolge un lavoro estremamente importante in quell'area. Terzo punto che vorrei portare alla vostra attenzione torna sulle sfide globali e trasversali quelle che toccano sostanzialmente tutti i paesi del mondo ma in modo molto puntuale sono sfide alle quali dobbiamo fare una grande attenzione come organizzazione nell'ambito proprio di questo rinnovamento dell'efficacia dell'OSCE e nella nuova prospettiva del futuro. Penso alle questioni legate al terrorismo, alla lotta al terrorismo, questa piaga che colpisce, che può colpire in profondo le nostre società, i nostri cittadini, che crea insicurezza, che accentua gli steccati dell'odio reciproco e della sfiducia. Ecco, noi dobbiamo fare del nostro meglio per far sì che questa piaga non sia più presente nella nostra realtà. Penso alle questioni tecnologiche. La rivoluzione tecnologica è senza dubbio un elemento positivo, ne fruiamo tutti, ha cambiato il nostro modo di vivere, ma la rivoluzione tecnologica ha portato inevitabilmente con sé, questo probabilmente è nella natura umana, anche il crimine tecnologico. Di conseguenza ci sono forti questioni legate alla sicurezza tecnologica, che sono questioni trasversali, perché la tecnologia non conosce frontiere. E quando si parla di sicurezza cibernetica, di cyber security, si tocca un punto vitale del modo con cui oggi si può decidere se combattersi o cooperare, se aiutarsi vicendevolmente o contrapporsi e cercare di prevaricarsi vicendevolmente. È una scelta. Sul filo dello sviluppo tecnologico e della globalizzazione corre anche la criminalità organizzata, rapida ad adeguarsi alle nuove possibilità che le si aprono e che naturalmente sono estremamente negative per noi, per i nostri paesi, per i nostri cittadini. Combattere la criminalità organizzata transnazionale ci riguarda tutti. Ciascuno ha le sue malavite, ciascuno ha le sue criminalità organizzate, assumono nomi diversi, a volte le chiamiamo con nomi mutuati da realtà che sono diventate famose prima, ma alla fine sono criminalità organizzata e abbiamo il dovere di combatterla. Ci sono i grandi traffici illeciti, che è una forma di criminalità, che è una forma a volte di vero e proprio terrore dell'uomo sull'uomo, dell'essere umano sull'essere umano, i traffici illeciti degli stupefacenti, i traffici illeciti delle sostanze pericolose, i traffici illeciti delle armi, i traffici illeciti delle opere d'arte che depauperano il patrimonio culturale e le radici di tanti paesi, molti dei quali parte della nostra organizzazione per le loro lontane radici, il glorioso passato, che non può essere lasciato in mano a predatori che ne fanno oggetto di commercio illecito. Ma soprattutto, lasciatemi dire, cari amici, il traffici illeciti di esseri umani. Molto del fenomeno che chiamiamo migratorio, termine neutro, deve tradursi schiettamente in traffico, sfruttamento neoschiavista di esseri umani. Pensiamo alle donne, pensiamo ai minori, pensiamo ai bambini. non possiamo stare con gli occhi chiusi o girati da un'altra parte di fronte a questa realtà. Dobbiamo assolutamente unirci e agire insieme. Si tratta di qualcosa di inaccettabile. Le chiamiamo sfide globali, sembra quasi un elemento competitivo. non è questo, sono piaghe globali, sono piaghe globali. Ci toccano tutti. Dobbiamo insieme cercare di fare qualcosa rispetto a questi elementi. Lottare contro i legami criminali tra organizzazioni del crimine, propriamente dette, e organizzazioni terroriste. lottare contro l'odio che si viene a creare fra nazioni, fra popoli, su base religiosa, su base etnica, su malintese basi storico-ancestrali. Cerchiamo di guardare avanti. Prendiamo ciò che c'è di buono, di bello nel passato, non ciò che c'è di brutto. Superiamo le antiche barriere e guardiamo avanti. E noi possiamo farlo, siamo intorno allo stesso tavolo. Ci guardiamo gli occhi negli occhi. parliamo, dialoghiamo, corresponsabilizziamoci. È molto importante la lotta al terrorismo. Abbiamo organizzato a Roma, nel mese di maggio, una conferenza sul tema. Avremo adesso, a settembre, sempre a Roma, una conferenza sulla sicurezza cibernetica. È fondamentale essere insieme di fronte a queste piaghe che affliggono il pianeta, ma che affliggano in primo luogo i paesi che qui siamo a rappresentare. L'OSCE può favorire il raggiungimento di una sicurezza sostenibile ed effettiva. Se noi lavoriamo insieme, possiamo garantire ai nostri concittadini, ai nostri compatrioti, ai nostri popoli, ai nostri paesi, una sicurezza sostenibile ed effettiva. Questa dovrebbe essere la nostra stella polare. guardiamola andando verso la conclusione nella prospettiva delle tre dimensioni tradizionalmente identificate per la sicurezza nell'ambito della nostra organizzazione. La dimensione politico-militare, la dimensione economico-ambientale e la dimensione umana. La dimensione politico-militare per certi versi è stata nell'origine della stessa conferenza di Helsinki e dell'OSCE che ne è scaturita. Resta importante controllo degli armamenti, collaborazione, evitare conflitti armati, cercare di perseguire la pace, la sicurezza. È estremamente rilevante il lavoro che viene fatto in occasione in particolare della conferenza annuale dell'OSCE sul riesame della sicurezza. Ecco, noi dobbiamo comprendere che questa dimensione resta di attualità e resta uno degli elementi che dobbiamo continuare a curare, così come nella fase iniziale fu per certi versi l'elemento principale, l'elemento da cui scaturì il processo di Helsinki. La seconda dimensione è quella economica-ambientale. Un'economia che funziona bene può garantire la prosperità, la prosperità ai popoli, la prosperità alle nazioni. Un'economia per funzionare bene al giorno d'oggi deve essere un'economia che rispetta l'ambiente, un'economia che rispetta le priorità sociali. Non può essere un'economia univocamente evocata al mero profitto e alla mera accumulazione di ricchezza. Occorre un rispetto delle risorse ambientali, occorre un rispetto dei diritti sociali, occorre anche qui una capacità di maggiore condivisione. Perché un'economia funzioni bene, bisogna lottare contro gli elementi che possono creare dei disfunzionamenti. Penso alla corruzione, penso alla necessità di favorire l'innovazione, penso all'importanza dell'istruzione, dell'educazione, di quello che chiamiamo il percorso di apprendimento durante tutta la vita sociale e di lavoro, il lifelong learning, che resta estremamente importante. Su tutti questi versanti noi possiamo impegnarci. In particolare, con un occhio alla lotta alla corruzione, attiro la vostra attenzione sull'ottimo lavoro svolto dal rappresentante speciale Paola Severino e su una conferenza che verrà organizzata a Roma il 12 novembre proprio sul contrasto alla corruzione, alla quale siete naturalmente tutti benvenuti. E questo ci porta direttamente alla terza dimensione, è la dimensione umana, un pilastro fondamentale per l'architettura della sicurezza europea. Parlare di dimensione umana significa parlare di diritti, di diritti che prima ancora di essere fondamentali sono diritti propri dell'essere umano, sono diritti inalienabili del rispetto nei confronti dell'essere umano, ovunque si trovi, in qualunque situazione si trovi, anche quando è un avversario o addirittura un nemico, noi dobbiamo rispettarne i diritti di base. Significa la dimensione umana sostenere la pace, cercare di perseguire attraverso un'economia che funziona bene, un'economia sostenibile, come dicevo poco fa, una prosperità sempre maggiore, un benessere, un vero benessere delle nazioni, ma prima ancora che un benessere delle nazioni come lo si declinava nel secolo scorso o nel secolo antecedente, deve essere un benessere delle popolazioni dei diversi paesi, un benessere dei popoli al di là delle frontiere dei paesi. Questo credo che sia anche un grande obiettivo per un'organizzazione multilaterale così vasta e così variegata come la nostra e dobbiamo lottare anche qui contro elementi che possono perturbare il quadro, xenofobia, odio interreligioso, addirittura rigurgiti di odio interraziale, concetti che pensavamo forse superati col nuovo millennio. Ebbene, li abbiamo ancora davanti e anche qui ringrazio coloro che si sono impegnati insieme a noi, insieme alla Presidenza per il raggiungimento di questo risultato e avremo anche a Roma nel mese di ottobre un evento, una conferenza dedicato per appunto alla lotta contro ogni forma di intolleranza e di discriminazione che include l'ho già detto ma lo ripeto ancora una volta per la sua grande attualità e importanza la lotta la lotta senza quartiere ai trafficanti di esseri umani e alle violenze sugli esseri umani che si muovono dalle loro terre d'origine per cercare una situazione migliore per fuggire situazioni estremamente difficili noi dobbiamo intervenire nelle terre di origine di queste persone per migliorare la realtà socio-economica il continente europeo è stato per secoli un continente di persone che emigravano altrove ebbene oggi è diventato un continente dove le persone immigrano ma non possiamo dimenticare ciò che siamo stati nella diversità dei diversi fenomeni delle diverse epoche a seconda dei diversi periodi ma non possiamo dimenticare questo dobbiamo intervenire con un'azione di cooperazione di sviluppo che favorisca la crescita che favorisca il miglioramento della situazione socio-economica nei paesi da cui oggi le persone partono nessuno ama lasciare la propria terra soprattutto quando i movimenti riguardano enormi numero di persone ebbene noi dobbiamo cercare di intervenire per migliorare la situazione io su questo appello su questa enumerazione di vorrei chiamarli cantieri per sottolinearne la natura positiva sulla quale possiamo insieme costruire un presente e un domani migliore io vi auguro buon lavoro vi ringrazio di essere qui farò qualche piccolissima considerazione conclusiva dopo i vostri interventi che ascolterò con grande attenzione grazie a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti